Ma tutte queste cose le sappiamo benissimo, il punto è che da settembre a questa parte in tutta Italia la coscienza degli studenti e delle studentesse si sta un po' risvegliando. Abbiamo visto l'autunno romano con più di 60 occupazioni in una sola città in pochi mesi, in tutta Italia gli studenti e le studentesse stanno ricominciando ad occupare le scuole. Non hanno speso una parola su tutti i suicidi giovanili. Siamo criminali! Siamo criminali! Come negli ultimi due anni e mezzo di pandemia, come l'unica cosa che trapella negli ultimi giorni sono le famose prove scritte. Allora diciamolo che noi non va così, che noi vogliamo che i nostri bisogni siano ascoltati. Diciamo perché siamo qua, siamo qua perché la scuola va cambiata, siamo qua perché i primi che devono realmente dire quello che sentiamo sono proprio i giornali e i media. Siamo qua per prendere i voti.